Magari ci mettiamo lì in una zona tranquilla, tra cani e furetti, guarda a testa a vedere che non c'ho... vabbè mia figlia me li ha lasciati con questi qua, c'è il furotone lì dentro si vede? Sono un po' mal organizzata io, oggi eh, perché è vecchio avuto, è anch'io Vai Attila! Mio suocero doveva andare in bagno, ho un suocero di 85 anni che ha avuto l'emorragia cerebrale, no metticelo, quindi, ma guarda, ma lui è buonissimo, cioè sta anche, è Pompeo quasi da sola, guarda, siamo usciti che dormiva perché ho detto se si sveglia ci vede partire Poverino, e questo è rimasto così, Attilone, è il doppio dei miei, vieni qua Tupino Guarda, puoi ammeno, esci tu, guarda com'è piccola! Tanto piccola quanto potente, no adesso è più buonina!